Raga, prima di cominciare il video, innanzitutto scusatemi se parlo a voce bassa, ma è notte fonda e stanno dormendo i miei genitori Prima di cominciare voglio dirvi che questo è un funny moments che ho montato prendendo le varie partite che abbiamo registrato quella sera Quella sera registriamo sia io che Marci che Eren, quindi potreste vedere all'interno di questo video delle scene che avete già visto nel loro video Ma in realtà questo non è un video di Marder, è solo un montaggio delle varie partite che ho fatto perché laggavo, non riuscivo insomma a fare una partita decente Quindi visto che non sono uscite delle partite belle lunghe, ho pensato di fare un montaggio delle cose più divertenti e ignoranti che abbiamo detto Mi raccomando ragazzi stiamo scherzando all'interno del video, non siamo seri, stiamo soltanto facendo gli stupidi Fatemi una risata perché veramente noi ci siamo sbellicati Se volete vedere le partite intere invece andate sul canale di Marci e di Eren che hanno caricato il video i giorni scorsi Mi raccomando lasciate un like se volete altri funny moments di questo tipo dove metto le cose ignoranti che diciamo e vi lascio al video Buona visione No raga No non sono Cody Wolf Non posso più tor- Raga sono bloccata Perché? No non ci credo sei andato al- Ho capito Dov'è chi sei? È praticamente nella macchinina Sì Che scemo Eh no stavo cercando di prendere uno sveraldo Raga sono il marde Non è vero Sì No Forse Ma raga sono morto Come sei morto? Sì o Pedro Che bello sono No vattene via Jai sei mi? Sei lo preso Tira la spada qua In realtà non sono morto Tirli ma che cazzo Non ci giochi mai però No perché mamma è più bella di voi Mamma è gnocca Anche io ho della quinta di tette Però non ce l'ho Che palle E fatela prestare E infatti gliel'ho detto Ma quanto è brutto quando il tuo computer prende i Trojan? Vabbè c'è Cioè Non l'hai mai insegnato Che non si fanno queste cose Mia mamma ha la quinta di seno Io volevo dire Ma io ho la quinta di qualcos'altro E poi invece è startata Ho detto No non lo dirò Perché se no La quinta Sì è presente quando ingrani la marcia Ma cosa? Ragazzi posso capire Perché stiamo divagando in questa maniera? Perché questa partita è Ma io adesso al posto del cambio della mia macchina Immagino un pene Che schifo Non cambierò mai più marcia Scusa Mettili il preservativo E infatti adesso ho di un farmaceutico Il preservativo lo metto al cambio della mia macchina Per il cambio Ma che cazzo stai facendo? Posso? No veramente? Vabbè Raga Martina stava cercando di sistemare la roba del virus Le esce una pagina internet a caso che dice È stato trovato un virus Clicca qui per toglierlo Lei sta premendo ok Ok Per rovinare il computer Hai installato un altro virus Complimenti Hai vinto Posso dirla? Gli aneddoti di Charlie Ragazzi c'ho parole Gli aneddoti di Charlie Sarà la nuova sottorubrica di Marder Gli aneddoti di Charlie Quindi il virus di Martina Che voi dite ma che cazzo sta dicendo Eppure c'è Charlie sei morta? Ora sì Ok è arrivato il momento di un aneddoto di Charlie Allora Martina Martina ancora problemi con i virus E le faccio Ma scusa Ma dillo a tuo padre No lo sistema lui No ma io ho paura Ma di cosa hai paura? No lui si arrabbia Ma di che non sei stata tu? Ah pensavo che racconti No lui mi mette in punizione Ma In posizione? In posizione Tipo i caporal maggiori In posizione lei In realtà Infatti a me Per piacere Per piacere Io ci ho giocato Io ci ho giocato Ma internet non si può usare Ho paura debba formattarlo Qui si infittisce la trama ragazzi La trama si sta infittendo E ma con qualità Gano te l'ha detto Chi sei te Simo? Ma voi guardavatele Miu 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 È la mia scarpa Miu Miu Sei tu Cosa c'entra? Ma dove state dicendo? Era un cartone Tipo Sailor Moon Sì sì Lo conosco Non me lo vedevo Perché era una femminata Ma se tipo Charlie Ha un figlio con suo nonno Ma porca Eva Cazzo gli hai fuori Che schifo Qual è bisnonno? Ma che schifo No ma soprattutto È mio nipote No aspetta Se sarebbe un bisnonno padre Aspetta è mio zio Chi è il nonno? O mio figlio Oddio è vero Chi è il nonno poi? E te dono Charlie No tu sei una perduta persona Fai schifo Xperry sei uno schifo Scusate Vi ha rubato un diamante Raga Martina Non vuole accendere l'Xbox Perché ha paura di mettere i virus Anche a quella Quella è abbastanza pesa Martina Per piacere Per piacere Martina Basta Facce sognà Facce sognà Martina Facce sognà Martina Faccele toccà Ah proprio così di ignoranza Stai un po' esagerando Devo essere sincero Raga sono euforica Tra due giorni Ho finito le mie maturità Raga sono sin pedro Quindi ti senti matura Così Vabbè il chess Forse era un po' pesante Come argomento Sì ma ragazzi Ma guardi Game of Thrones E poi mi fai che Mi fai che argomento pesante Raga Sono una obligation Sono stanca Sono stanca di essere un bis Il mio nome è fantastico È originale Devo dire Dilemma Si 45 Allora Adesso Martina si sta Dopo l'Xbox Che viene presa dai virus Adesso si sta chiedendo Come si scarica Netflix Su Xbox E me lo dice Esattamente Comunque Non so come Se pisso Scaricare app sopra Raga sono il murder Davvero Dimmi Non mi hai capito il chillo Mai nella vita Cosa Ma se l'ho già visto Raga È mighty sour Maledetto Vabbè Cattiveria Maledetto No raga sto laggando Sto laggando Che palle Si sente Si sente Raga sto laggando male Ma C'è la spada in mano Eh si perché sto laggando Raga Ah ma sei tu Eh si Ve l'ho detto Aspetta Aneddoti di Charlie Allora raga Sono il murder Ma non posso uccidere nessuno Perché mi riporta indietro Sto laggando Che bello Che bello Il manuale del bomb Del bomb Mardire Innanzitutto metti via la spada Primo Avere Ma io non so dove sono Raga Mi riporta indietro Ogni volta che faccio un passo Ah no Non è mighty Mighty saurus Ok niente E lei è mighty saure Ma è cambiato identità No Ok No nel senso Non era quella che stavo incontrando Raga C'è stato un rumore strano dietro di me Ho paura Vabbè io provo a uccidere anche se l'altro No Non mi uccide nessuno No A me non uccidermi No E non so chi sei No ma raga ma sto laggando Stai fermo Ma raga sto laggando un boccio Metti via la spada che ti vedo in tutti Ma io non ho la spada in mano Eren Io non ho tolto la spada Mi sta anche partendo la facecam Per cortesia No un attimo ragazzi Adesso pongo io fine alla tua miseria Se stai fermo No 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 Fammela killare a me No 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 Aiuto Io scappo No And then scarlet vampire Miss cats Kinder Ahia Jubis Jubis Ti possa morire mamma Ma che cacchio stai dicendo Charlie Non è una lingua che comprendo Non so L'ho visto L'ho visto L'ho visto Io vorrei essere il murder E uccidere tutti cantando Ma te sei morta Baby baby Oh Like baby 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 Sei morta Si Sei serio Mi sei detto un altro Grazie Grazie per questo copyright strike gratuito Raga mi scappa una New Jersey No si è incastrato nella macchinina Oddio il murder è incastrato nella macchina Ma 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 dove Ma Ma te lo assicuro Ma vai che gare però No no Ora seriamente Ma ora seriamente No ora te lo dico Ora se vuoi ti dico Poi chi è E' una persona sola Quindi non è che No basta Cioè ragazzi Non mi fido più di voi Comunque io vorrei soltanto dire Che Eren vuole essere ciucciato da Marci Basta Mi fermo qua No Non è vero Raga Davanti è uno che si chiama Gay Kiwi Basta Chiudete l'internet Raga ma ci sono 50 cadaveri Qui Zio Pedro Alfredo Te ne devi andare Unica Aia Raga non immaginerete mai chi è il murder Raga mi sto cagando addosso Ma guarda io ne ho uno Sia letteralmente Che metaforicamente Cosa? Mi sto cagando addosso Come sia letteralmente? Sei il lamarder? Ma infatti come sia letteralmente? Piegami il letterale Io ve lo dico ragazzi Con Charlie Perché prima dovevo fare la cacca Però io non l'ho fatto in tempo Ma Charlie eri tu L'ho visto È il nero 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 L'ho visto L'ho visto C'è Eren Non scappare Eren Sono morto Ah Raga sono solo io? No raga aiuto Posso dirvi una cosa Però con Charlie Mi è passato di fianco a me Emma was No Forse questa era Space No Motherfuckers Yes Yes Però Charlie Mi è rimasto questo nero in testa Della cosa Della nerchia storta Vi devi spiegare l'altro motivo Dopo quando c'è più tempo Ma ce ne sono tanti di motivi Eren Vi devi spiegare bene Finché adesso Adesso me l'ha storto a posto Mi Proprio Mi prendo una tronchese Me la ribalgo Oddio che ignoranza Mamma mia Devo prendere Guarda Prendo la zappa Guarda Guarda Ce l'ho anche ora Vedi che ce l'ho anch'io Non sono il marde Non sono il marde Siamo amici noi due Sembra Eric in questo momento Mi sembra uno di quei ritardati Che parla ai cani In quel modo strano E' un cucciolino Mamma mia quanto sono stupidi Lo faccio anch'io con il mio cane Eh io faccio con il mio gatto Quindi Cominciando ma senza Marci Marci Torna dalla tua pipì Marci è a fare la pipì Accio Marci Accio Marci Buongiorgio Ha funzionato Incredibile Raga Dai raga però Prendete l'uovo per favore Con gli orologi bardato Ragazzi Mi sono nascosto Mi sono trasformato in letto Raga ho preso i pot al centro Ve li lascio Nella cesta Mi bardate per favore Dove sei? Dai raga muovetevi Mi sono su Aspetta che sta arrivando il Marder Aspetta Ma perché Arujan? Ma perché l'hai fatto? No ma lasciatemi uno smeraldo però Va bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un mi piace Se no Charlie verrà bocciato Esatto Like se non volete In realtà è impossibile Perché dovrebbe prendere uno Ma no neanche Zero Nemmeno perché Se non si presenta Viene bocciata No perché con zero Comunque 66 No ma ora che se non ti presenti Ti danno lo stesso tipo 10 Qualcosa del genere Ah wow Bello Quindi lasciate like Per farmi prendere 10 Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi